Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube, oggi siamo qui con una nuova patch review difatti fa anche un po' ridere ma siamo arrivati ormai alla sesta patch in meno di un mese e mezzo quindi quasi una patch ogni 10 giorni su questo meraviglioso gioco però forse questa volta siamo mezzi sulla buona strada dico mezzi, non diciamo gatto finché non ce l'abbiamo nel sacco ma potrebbe esserci una serie di novità interessanti, quindi come al solito andiamo a fare la nostra animazione per passare sulla schermata e andarci a leggere la patch insieme eccoci qua, benissimo allora, eccoci qui, c'è il buon Zaro Community Manager che ci dice l'ultimo aggiornamento sarà a breve disponibile su PC e poi, se lo sapete, successivamente su console, gameplay abbiamo effettuato i cambiamenti seguenti bene, prima cosa ridotta la distanza che un giocatore controllato dalla CPU può raggiungere mentre tenta di bloccare la palla questo cambiamento si applica solo nelle situazioni in cui il portatore di palla effettua un tiro cosa significa questo? dovrebbe significare autoblock finalmente diminuiti quindi uno dei problemi che tanto affliggeva questo gioco forse, forse, un minimo lo hanno toccato quindi non vedremo più portieri che in realtà non servivano a nulla quando i portieri praticamente divenivano i difensori che facevano le peggio animazioni per bloccare i vostri tiri come se fossero FIFA is my life questa palla non deve passare quindi occhio a questo primo cambiamento secondo abbiamo migliorato la logica di intercetto in situazioni dove il difensore è direttamente in mezzo a quello che è il percorso, la traiettoria della palla questo cambiamento si applica solo nelle situazioni in cui il portatore di palla effettua un passaggio e vi dico anche qui ci può stare perché quante volte vi è capitato di mettervi sulla linea di passaggio quest'anno la palla che passava sotto le gambe quindi al momento due su due insomma cambiamenti che se daranno effettivi risultati vi dico gg 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 poi abbiamo terza fattispecie allora ridotta la velocità di uscita dopo aver fatto un doppio passo o più doppi passi mentre si è in corsa quindi anche questo dovrebbe significare doppi passi nerfati maledizioni finalmente basta spammare doppi passi anche con i difensori con la buona pace del bimbo danese che continuerà ad essere forte ma almeno adesso smette di fare l'epilettico con tutti quei doppi passi in continuazione anche qui mi sembra una cosa molto buona visto che ci hanno toccato l'elastico nessuno gli aveva chiesto ma gli avevamo detto che questo doppio passo ci aveva un po' rotto lo scojones ed è giusto che lo vadano un attimino a nerfare poi aumentata la distanza che la palla può percorrere dopo essere stata praticamente deflected deviata dalle mani del portiere quindi insomma magari va a evitare quelle situazioni di tiro con palla che rimane sempre in aria pronta per essere poi tapinata dai attaccanti avversari quindi anche qua vi dirò poi toccate anche i seguenti problemi alcune volte il difensore poteva estendere le proprie gambe più del dovuto mentre faceva un'animazione di autoblock alcune volte il difensore challengeava quindi faceva una sorta di contesa e questo poteva risultare in un movimento inaspettato per il giocatore che difendeva quante volte vi è capitato che stavate lì con l'L2 e magari quello vi fa un movimento il vostro giocatore vi fa un contrasto totalmente a caso un'animazione strana mette il piede va a vuoto e voi ci prendete gol bene anche questo vi dico nice potrebbe essere effettivamente un buon cambiamento e poi ci dice il manual player switching con un mouse non funzionava quando la tastiera e insomma e il mouse erano utilizzati questo su PC ci importa poco poi 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 per quanto riguarda gameplay quindi le cose primarie queste mentre per quanto riguarda FIFA Ultimate Team ci dice dopo aver riscattato un premio dalla community tab nella schermata degli obiettivi il giocatore era preso dalla season progress e non dalla community tab vabbè non ce ne importa più di tanto nella schermata del club sulla squadra la lista degli strumenti non funzionava quando uno strumento portami lì era sullo schermo vabbè niente di che il foot champions logo mostrato durante una transizione di replay spesso diveniva più piccolo dopo ogni replay vabbè quando equipaggiato l'inno dell'islanda non suonava durante il pre partita vabbè poco ce ne importa il take me dare widget ancora una volta rimaneva sullo schermo in rari casi vabbè dopo aver segnato un gol in single player draft il giocatore che ha segnato non appariva sullo schermo dopo il kick off non ce ne frega proprio l'azione corsa del giocatore esultanza era listata incorrettamente come T-Rex vabbè sarà contento Iron toccata la stabilità mentre si va a entrare quello che è il negozio di foot quindi diciamo questi sono aggiornamenti di foot che poco ci interessano cosine che hanno toccato quello che ci va a interessare sono sicuramente questi aggiustamenti di gameplay che mi sembrano veramente fatti on point lo sapete huge huge premessa sappiamo bene che questi aggiornamenti possono essere tanto buoni quanto non vederni minimamente avevano detto che nel final pressing in realtà è uguale a prima stessa cosa magari i doppi passi ora diventano più forti gli autoblocca ancora peggio quindi un conto è leggerli e un conto è poi vedere effettivamente come andranno in game aspetto magari di sentire nei commenti opinioni da utenti di pc che avrete la fortuna di poter testare la patch prima io vi ricordo di lasciare un like a questo video se lo avete trovato utile e insomma avete soprattutto trovato utili i cambiamenti che andranno a fare fatemi sapere la vostra ripeto nei commenti iscrivetevi al canale che stiamo crescendo bene mi fa strapiacere e noi vi ci vediamo ogni giorno in live sulla piattaforma Viola ragazzi lo sapete trovate tutte le info in descrizione io vi lascio qui vi saluto e vi auguro buona giornata ciao ciao